Promuovere lo sviluppo socio-economico del Sudan attraverso il potenziamento delle competenze e sostenendo la crescita professionale dell'individuo e la sua integrazione nel mercato del lavoro. È stato questo uno degli obiettivi principali del progetto INSO, innovazione nella società, del quale si è discusso nel corso del convegno conclusivo a Napoli nella sede del CNR, Iris. L'iniziativa ha già portato risultati importanti, ma proseguirà, lo ha detto il direttore del CNR, Alfonso Morvillo. L'obiettivo finale che noi siamo riusciti a conseguire, cioè quello di costruire un incubatore in Sudan, è veramente di grande soddisfazione per noi e rappresenta comunque solo l'inizio di questo progetto. Il progetto finisce, ma noi adesso stiamo gettando le basi per una prosecuzione di questo progetto. Infatti tutto il convegno finale è orientato non tanto al passato, ma anche a come proseguire le attività ai fini di un'implementazione efficace del progetto. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nell'ambito del bando, collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo. La partecipazione di Fabrizio Lobasso, ambasciatore d'Italia in Sudan, e di Abdel Wahab Elijazi, ambasciatore del Sudan in Italia, sottolineano l'importanza dell'evento e le ricadute positive che tali progetti possono avere sulla società sudanese. Abbiamo sentito proprio l'ambasciatore Lobasso. Uno splendido risultato di diplomazia ibrida e di grandissima sinergia di sistema paese. Le istituzioni, istituzioni private, le imprese, l'Agenzia per la cooperazione, l'Università sudanese, le istituzioni tutte e altri partecipanti, tutti insieme per sviluppare l'imprenditorialità giovanile dei giovani sudanesi avidi di progetti e di futuro e di sognare. Un anno splendido per adesso e continueremo così.